Ciao a tutti, bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italiano Scoppia l'amore all'interno della casa del GF VIP? La concorrente Manila perde la testa per il VIPone Aldo Montano? I suoi comportamenti non lasciano dubbi, ecco cosa ha fatto lei per lui Aldo Montano e Manila.Nelle seste edizione nel programma sono successe un'infinità di cose, molti sono gli amori nati all'interno della casa e molti ancora potrebbero nascere Tra la maggior parte degli GF VIP vi è molta sintonia, si sono infatti creati innumerevoli legami indissolubili, i quali sicuramente verranno poi coltivati anche fuori dal reality Tutti ormai sappiamo quali concorrenti hanno trovato l'amore e quali hanno coltivato una profonda amicizia Le coppie creatasi all'interno della casa ormai sono Alex e Soleil, Manuel e Lulu, Gian Maria e Sofie Tra i vari alti e bassi loro hanno continuato a provare attrazione l'un l'altra Altri legami però hanno destati svariati sospetti, tra questi vi è proprio la coppia di Geffini formata da Manila e Aldo Montano Loro sono due grandi amici, si sostengono e si ammirano a vicenda Entrambi sono rispettivamente impegnati, le loro dolci metà però sono al di fuori della casa Tra Manila e Aldo Montano c'è qualcosa di più profondo? Gli avvenimenti al GF Vip che lo confermerebbero Nelle ultime settimane tra i due si è creato un vero rapporto, quasi fraterno I due sono praticamente sempre insieme e tendono a sostenersi a vicenda Molte sono le voci basate sul loro conto ed innumerevoli sono le versioni raccontate nonostante i diretti interessati hanno sempre e solo parlato di amicizia Alcune di queste ritraggono i concorrenti del grande fratello Vip come due persone l'una innamorata dell'altra A confermare ciò ci sarebbero alcuni video mandati in onda e poi circolati sul web Manila e Montano Aldo sorridenti.Inutile negarlo, tra i due sono molti i comportamenti che potrebbero far pensare che oltre a del semplice affetto ci sia anche qualcosa di più profondo Molte infatti sono le attenzioni che si dedicano involontariamente, ad esempio Manila spesso tende ad aiutare in primis Aldo Potrebbe interessarti anche, GF Vip, è il momento dell'addio di Aldo Montano, Giucas scopre tutto ma la regia spegne la telecamera Un avvenimento particolare che ha scatenato molti dubbi nel pubblico è avvenuto prima dell'ultima puntata del programma, proprio mentre i concorrenti erano in procinto di prepararsi per la diretta Manila infatti ha deciso di sistemare delicatamente i capelli di Aldo, continuando ad aiutarlo nella preparazione Al CEM molti loro fan hanno subito collegato il tutto. Tra l'oto vi è sicuramente un'intesa ma i loro cuori sono impegnati ed appartengono volti distanti dalla casa Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video